Sapevi che con Arcline XP è possibile creare tettoie per esterni e pensiline sfruttando lo strumento tetto per sezione? Una volta configurate le classiche proprietà tetto, è possibile definire le regole di generazione del tetto sezione come valori e riferimenti per il calcolo dell'elevazione, tipo tetto, ecc. Questo comando consente di creare un tetto generato dallo sviluppo del profilo sezione scelto lungo un percorso specificato. È inoltre possibile specificare una quota esatta per i nodi della poliline generatrice, assegnando per ognuno di questi diversi valori. L'entità realizzata può essere gestita come un classico tetto e ne dispone di tutte le funzioni e proprietà tipiche. È possibile aggiungere orditure di travi personalizzabili per posizionamento, sezione, materiali e molto altro. Visita il link visibile a video o in descrizione per saperne di più.